Ben ritrovati, oggi 7 in punto per giovedì 11 dicembre a una puntata davvero strepitosa da proporvi, strepitosa perché? Perché nella fattispecie avremo due ospiti che ci parleranno dei loro libri, per cui visto anche il momento, il momento in cui si pensa a qualche estreno natalizia, sappiamo che ci sono le difficoltà della crisi, ma insomma qui non parliamo di cifre stratosferiche, ma semplicemente di cultura, per cui è un bene anche sostenere la cultura dal punto di vista economico e parleremo appunto di due volumi molto interessanti che potrebbero nella fattispecie anche figurare come un presente natalizio importante, insomma non un regalo inutile nel vero senso della parola. Cominciamo con il nostro primo ospite di questa mattina, lo ringraziamo di essere con noi, lo possiamo già definire un vecchio amico di 7 in punto, si tratta di Enrico Gusella, critico e storico delle arti. Buon giovedì a lei, dottor Gusella. Buongiorno anche a voi e grazie per questo nuovo invito. Grazie di essere con noi, a Enrico Gusella, perché Enrico Gusella alcuni mesi orsono, ormai tanti mesi, orsono venne a presentarci proprio il libro di cui oggi torniamo a parlare perché il libro che si chiama Sulla fotografia e oltre si propone in versione rinnovata, per cui diciamo anche un'occasione di approfondire un argomento e un tema estremamente interessante. Come vedete da queste immagini che vi sta proponendo il nostro regista Oscar Ciliero, ci sono state diverse occasioni di presentazioni, nella fattispecie questa era la presentazione di sabato 20 settembre ad Arte Libro a Bologna, una bella manifestazione molto interessante che ha anche riscosso un successo di pubblico. Quando si dice che gli italiani non sono affamati di cultura si dice una bestialità, ci permettiamo di così osservare. Ma adesso andiamo al nostro graditissimo ospite. Enrico Gusella, perché ha deciso di approfondire il tema sulla fotografia e oltre? Perché è una nuova edizione aggiornata e anche appesantita perché ci sono diverse decine di pagine in più? Sì, beh, tra le righe durante la chiusura della prima edizione mi ero accorto che tra scaffali e altri libri, eccetera, avevo lasciato e tralasciato qualche altra mia recensione, qualche altro mio saggio e quindi ovviamente c'era anche il desiderio di riportarli in luce perché ovviamente erano materiali anche piuttosto importanti. Oltre al fatto che poi era cresciuta anche un po' l'idea di ampliare il panorama su cui mi ero cimentato e quindi allargare il campo anche di alcune sezioni, come ad esempio quelle delle collezioni dove ho inserito due collezioni molto importanti, uno della Fondazione Fotografia di Modena che in pratica è la fondazione più importante per la fotografia in Italia che tra l'altro ha dedicato anche al mio libro La giornata per il contemporaneo che è un avvenimento nazionale in cui i musei italiani celebri quelli più importanti ovviamente d'arte contemporanea, celebrano con loro iniziative un'idea di contemporaneo. E quindi attorno a questo ho cercato appunto di riallargare il discorso, di rielaborarlo e quindi di dare nuove sfumature. Mi è sembrato un'occasione anche importante per cercare anche di tenere uno sguardo sempre vivo e attivo su di un panorama che tra l'altro è sempre in movimento. Difatti una delle citazioni che mi piace poi ricordare in genere come anche sottotitolo è per una fotografia in movimento. E quindi anche sul piano così delle presentazioni c'è anche questo ha un significato di dinamismo e quindi anche questo di comunicazione. E' particolarmente accattivante. Già il titolo del libro, la copertina poi è incredibile una fotografia di Mimo Iodice e Gorgoneion, è incredibile anche pensando alla figura mitologica è quel oltre, quell'avverbio sulla fotografia è oltre che stimola la curiosità in maniera piuttosto importante. Insomma qui si parla di grandi artisti ma magari di grandi artisti sì, sono fotografi, sono artisti per cui non abbiamo fatto un lapsus. Parliamo anche di professionisti della fotografia, degli scatti fotografici ma parliamo anche di personaggi che magari il grande pubblico non conosce analizzandone un po' la personalità perché tante volte dallo scatto forse c'è anche l'impressione di entrare un po' ci permettiamo di osservare nell'anima di chi l'ha scattato. La capacità di questi grandi professionisti è quella proprio di trasmettere anche un linguaggio che va al di là dell'immagine che dice appunto la fotografia in movimento. Sì, sì, no, infatti credo che senza autoreferenzialità ma uno dei meriti che è stato anche come dire riconosciuto è stato quello di aver in qualche modo saputo carpire appunto l'anima di questi autori, raccontarne le biografie, entrare appunto dentro e oltre la loro vita e le loro vicissitudini. E questo all'interno anche di una dinamica molto densa ma intensa che in qualche modo è riuscita anche a far sì che il lettore stesso diventasse in qualche modo il fruitore appassionato e anche compartecipe della stessa esperienza letteraria. E questo mi sembra possa essere stato anche un motivo di grande interesse e anche di novità insomma sia per chi poi si affaccia su di una scena fotografica ma in questo caso soprattutto letteraria. E quindi questo mi sembra l'aspetto che più magari ha marcato questo libro sul piano della narrazione. In qualche modo una sorta come scrivevo nella mia introduzione minima di una mappatura della narrazione fotografica. Ecco e questo mi pare sia un elemento importante da sottolineare perché chiaramente all'interno di quello che può essere un racconto visivo diventa poi il volume un racconto letterario. Guardate c'è un'immagine che se possibile vi vorremmo proporre, insomma emblematica, la nostra sede è a Padova per cui proporvi un'immagine tra le più caratteristiche di Padova voi direte potrebbe essere una scelta abbastanza facile ma è proprio a confermare quanto appena spiegato da Enrico Gusella. Cioè come l'immagine possa raccontare cioè in questo scorcio di piazza delle erbe mi sembra no? A cura del grande Giovanni Omicini noi riusciamo come dire a leggere quello che una città può esprimerci, può dire. Per cui insomma la forza anche di queste immagini che vanno al di là del semplice scatto di un'immagine di portici e di persone soprattutto che guardano con le loro ombre lunghe disegnate dal sole. Sì assolutamente c'è il fatto che alcuni autori come appunto in questo caso Omicini e altri come Elio Choll, Iodice stesso ma anche Basilico con i suoi ritratti di fabbriche del 1978-80 abbiano caratterizzato appunto su forme e luci diverse. L'esempio delle città diventa appunto una lettura sicuramente importante e significativa su come in qualche modo rappresentare un paesaggio o il tessuto urbano. Cioè gli stessi ritratti di fabbriche appunto del 1978-80 di Gabriele Basilico sono sì ritratti ma sono paesaggi anche. Quindi questa dicotomia diventa un unicum e diventa anche il motivo per raccontare un territorio, una città e anche la propria identità. Dottor Busella, noi stiamo parlando di un libro che si chiama Sulla fotografia e oltre. Ne stiamo parlando in termini anche importanti. Non vorremmo che da casa si potessero spaventare, ma io un libro del genere non lo regalerò mai perché chissà com'è scritto. Guardate, è di una semplicità di linguaggio estrema. Per cui dei concetti profondi come quelli che legittimamente sta esprimendo il nostro ospite si traducono poi nella parola scritta in frasi comprensibili a tutti. Con questo nessuno se la possa prendere perché noi ci stiamo rivolgendo a un pubblico che contempla il più ampio grado di istruzione dalla persona magari meno istruita alla persona più colta. Questo è un volume importante che si chiama Sulla fotografia e oltre, edito da Aleman dieci, questo lo vogliamo ricordare, perché ha un linguaggio comprensibile a tutti pur esprimendo dei temi, insomma, non proprio e non sempre alla portata di tutti, o ci sbagliamo? No, no, è un'osservazione assolutamente pertinente che è stata rilevata anche con mio piacere nel corso di una presentazione, nell'ambito anche di una bellissima mostra che era Ritratti di Città, a Villa Olmo, a Como, dove chi mi accompagna in quell'occasione nella presentazione sottolinea appunto il taglio giornalistico e quindi la necessità appunto di essere comprensibili e soprattutto anche divulgativi, insomma. E questo mi pare sia un elemento che rafforza questa osservazione che lei faceva ora, perché chiaramente, come dire, il messaggio deve arrivare a tutti i destinatari del resto, quindi mi pare importante che su questo piano, come dire, la lettura diventi anche non soltanto piacevole ma anche comprensibile. E mi pare che in questo caso ci siamo riusciti. Diciamo, a molto è servita anche l'esperienza di Enrico Gusella, perché Enrico Gusella ha anni alle spalle di attività anche in termini di pubblica relazione, in termini di giornalismo importanti che lo hanno anche aiutato, insomma, nella realizzazione di questo lavoro. Ma c'è una storia, cioè voglio dire, ci sono le mie collaborazioni con parecchie testate, ci sono i saggi appunto che provengono da libri, da cataloghi e così via. E quindi, come dire, aver in qualche modo messo insieme e soprattutto strutturato, aver dato carattere appunto a un'esperienza, insomma, è stato anche il modo per poter offrire al lettore una dimensione appunto conoscitiva, rappresentativa, visiva di quello che rappresenta appunto la fotografia. Perché a beneficio magari del pubblico più giovane o di quello magari più interessato, c'è anche una parte molto importante dedicata, per esempio, alla fotografia in relazione alla musica. Noi pensiamo al jazz, pensiamo anche ai personaggi più recenti, insomma, della scena musicale internazionale. C'è un capitolo importante dedicato ad Anton Corbin, che era il fotografo, è il fotografo dei divi, tra l'altro si è cimentato anche come regista con esiti più o meno brillanti. Per cui, diciamo, c'è tutto un mondo, non intorno, ma dentro, questo libro, estremamente affascinante da scoprire. E' ovviamente un libro corredato anche da fotografie molto, ma molto emblematiche anche del pensiero stesso che vuole trasmettere questo libro. Ci sono dei bianco e nero incredibili e anche dei colori veramente strepitosi. Beh, sul colore molto ha detto Fontana, ovviamente, ma non solo. Cioè, quindi, avere anche messo insieme, come dire, autori e personalità diverse è stato anche il motivo poi per valorizzare tutte le diverse anime della fotografia e quindi raccogliere quello che io ho definito anche in alcune occasioni l'arcipelago fotografico. Quindi, insomma, in qualche modo, coloro, giustamente citava il discorso della musica, ma anche dell'architettura, del cinema, con Tarkovsky, Kislowski, eccetera, e quindi coloro che in qualche modo, quella è una foto di Elio Ciol che vedo lì, che appunto lui tra l'altro ha fotografato non soltanto il suo paesaggio friulano, ma ha fotografato anche situazioni molto diverse, come Venezia, come Lumbria e soprattutto anche sulle orme di un grande regista, quale è stato Pasolini. Eh sì, insomma, vedete quante storie si leggono dentro e attraverso queste fotografie. Adesso ammiravamo, insomma, una fotografia di Elio Ciol che a chi vi parla piace particolarmente, perché c'è questa sensazione magica, insomma, che può conferire un paesaggio meteorologicamente condizionato da una nuvolosità bassa oppure dalla nebbia, insomma, così familiare. Ma sempre con tanta poesia comunque. E credo che poi questa sua modalità di far fotografia rappresenti e rispecchi molto anche la sua stessa personalità, ecco, di persona mite, gentile, di persona che assolutamente ha saputo rappresentare un'idea alta e nobile della fotografia. Secondo lei, per rivolgere un messaggio ai giovani, consiglierebbe, scusi forse il termine non è, il verbo non è dei più appropriati, consiglierebbe ai giovani di intraprendere la strada della fotografia, nel senso volessi applicare e diventare anche fotografi professionisti? Beh, io consiglio che uno sviluppi il proprio talento e la propria creatività, la fotografia ovviamente è fra queste. L'importante secondo me comunque è cercare di pensare per immagini, per costruirle e quindi poi darne rappresentazione di queste. La fotografia è il mezzo che consente appunto di pensare le immagini, di avere anche modalità come dire, emozionali, emotive, suggestive e cercare a queste ovviamente di dar corso, di dar vita e magari laddove è possibile anche un'identità che abbia una sua consistenza e consapevolezza. Sì, sa, le rivolgevamo questa domanda anche perché al giorno d'oggi ci sembra che tanta, troppa tecnologia abbia un po' condizionato anche quella che è la creatività, o ci sbagliamo? No, no, beh, penso che, come dire, cercare sempre delle opportunità e delle modalità di comunicazione, di espressione sia fondamentale. E soprattutto sia assolutamente importante cercare appunto di darne un'identità a queste, soprattutto cercare di essere in qualche modo persone in grado di avere curiosità. Ecco, cioè perdere la curiosità credo sia uno degli aspetti che poi tolgono anche vita, conoscenza, sapere e soprattutto anche quella caratteristica che è propria di ogni persona, circa anche la novità, circa il desiderio appunto di camminare sempre avanti. Senta, i testimoni del nostro tempo sono i fotografi, l'immagine celeberrima della foto di Robert Capa durante la guerra di Spagna, insomma. Quella guerra di Spagna, diciamo, è stato un evento che a Robert Capa ha giovato moltissimo, insomma, nel senso che gli ha dato quella celebrità immortale, praticamente. Dicevamo appunto, ci sono situazioni, ci sono circostanze, per cui pensiamo che quella creatività di cui lei parlava fosse particolarmente stimolata. Ritorniamo un po' alla domanda di prima, cioè adesso sembra tutto votato a un certo appiattimento, nel senso una omologazione, ecco, se così vorremmo definirla, per cui tutto uguale, tutto tecnologicamente conformato, cioè non c'è più la possibilità di emergere anche da quel punto di vista. Ma io credo che comunque coloro che hanno un'ampia visione riescono sempre a tirar fuori poi delle modalità anche innovative e anche di trasformazione e di novità. L'importante, secondo me, è cercare appunto di avere una visione delle vedute ampie e degli orizzonti che siano sempre i più emancipati possibili. Questo ovviamente al fine poi di poter anche, come dire, avere l'idea per poter rappresentare qualcosa che abbia davvero, perché del resto molto è stato detto, in fin dei conti, sin dai primordi, cioè quindi dai primi decenni dell'Ottocento, la nascita della fotografia, sino ai giorni nostri. Quindi il rischio è quello magari di ripetersi su delle modalità anche visive che poi alla fin fine non danno anche quel sapore, quel gusto per il lettore e invece in qualche modo il fatto di mettere, come dire, un elemento in più consente anche a chi poi lo vede di riconoscersi e di ritrovare un motivo di identità. E questo mi pare un aspetto importante della dinamica rappresentativa e di quella fruitiva, perché sono le cose che comunque consentono a noi tutti di avere e di creare empatia, no? Cioè, cos'è la cosa che poi ci piace di più? Cioè, trovare un motivo di riconoscibilità, di identificazione con quello che vediamo. Ed è anche il modo per il quale uno può anche dire, beh, in qualche modo questo è un aspetto dentro il quale anche io posso essere passato oppure nel quale mi riconosco. Questi sono gli elementi, secondo me, che fanno anche comunità e che diventano anche motivo di affettività dentro l'immagine fotografica. E sono anche quegli elementi che in qualche modo stimolano anche colui che poi al di là della lettura si può anche spingere alla pratica. Sono modalità, come dire, complementari che consentono però appunto una partecipazione globale, no? Ed è il fatto per cui questo consente anche di essere in qualche modo testimoni ognuno di una propria presenza e anche di una propria identità. Insomma, crediamo che anche da questo punto di vista non sia stato facile, sia stata un po' la sua scommessa, se così vogliamo chiamarla, nel momento in cui ha realizzato sulla fotografia e oltre. Sì, ho cercato soprattutto di strutturare il libro secondo i generi della fotografia e quindi appunto cercare di dare un'identità il più completa possibile di quelli che sono i generi fotografici, di quello che appunto, come dicevo prima, è l'arcipelago fotografico e di coloro che sono gli attori che si muovono all'interno di questo, insomma. Quindi non soltanto i fotografi, non soltanto appunto magari i collezionisti, come nel caso, ma anche alcune istituzioni come alcune fondazioni, Modena, Venezia, cioè la fondazione di Modena e di Venezia sono quelle che su questo versante sono sicuramente quelle più attive e all'avanguardia e che appunto hanno costituito delle collezioni nazionali e internazionali, Venezia con l'archivio di Italo Zanier ma anche con precedenti fondi e Modena con una sua costituzione dai primi anni del 2000 che ha via via poi strutturato in collezioni nazionali, internazionali e così via. E questo mi pare un aspetto che poi dimostra anche quella che è, come dire, la passionalità, quello che è anche di interesse attorno a cui si muove appunto l'immagine fotografica. Ci fermiamo qualche istante, giusto per alcuni suggerimenti commerciali, rimanete con noi perché dopo andremo a scoprire altri aspetti anche dal punto di vista della diffusione di questo bel libro che si chiama Sulla fotografia e oltre, curato e soprattutto realizzato da Enrico Gusella. A tra poco. Restate con noi. Ben ritrovati, ben ritrovati, secondo momento di Sette in Punto, siamo con il nostro primo ospite di questa mattinata insieme. Stiamo parlando di un libro che si chiama Sulla fotografia e oltre, realizzato da Enrico Gusella che è critico storico delle arti, libro che si ripropone a distanza di pochi mesi dalla sua prima uscita in una versione rinnovata e soprattutto un libro che sta ottenendo un successo più che lusinghiero. Un libro che Enrico Gusella sta portando in giro per l'Italia. Oggi è giovedì 11 dicembre, già domani ci sarà un proscenio significativo in questo nostro nord-est per la presentazione del libro. Sì, lo presentiamo a Bolzano, alla Casa della Pesa, con un famoso fotografo che è Walter Niedermeyer e un docente dell'Università di Trento e di Bolzano che è renato a Troncon. E quindi, come dire, attorno alla presentazione, ma alle presentazioni in genere, si cerca di costruire anche dei momenti costruttivi perché l'elaborazione dell'oggetto, il libro in questo caso, diventi un motivo non soltanto, come avrebbe detto un famoso semiologo, per fare funky, ma anche per elaborare concetti, esperienze e così via, per essere in qualche modo ancora testimoni di altre storie ancora, come quelle raccolte in questo libro. Poi è ovvio che avere opportunità di confronto rispetto a un oggetto aiuta sempre anche l'elaborazione di nuove analisi, di nuove letture, di quanto può concorrere a comprendere meglio anche il significato di un'opera. Dunque l'appuntamento è domani, a che ora? Alle 19. Alle 19. Alle 19 a Bolzano, in Piazza del Grano. Piazza del Grano, alle 19, per cui insomma, se volete anche conoscere personalmente Enrico Gusella e parlare con il nostro ospite del libro che è venuto a ripresentarci, ma in questa versione rinnovata, diciamo già più sostanziosa perché è arricchita da diverse decine di pagine. Poi ci sarà un'altra presentazione al nord-est, prima della fine dell'anno, a Verona, no? A Verona, agli Scavi Scaligeri, che è uno dei più importanti centri per la fotografia in Italia, un posto molto bello, molto suggestivo perché si trova appunto, è un sito archeologico in pratica, per cui anche, ed è in corso attualmente una bella mostra dedicata a Tina Modotti, una delle più grandi fotografie del Novecento, chiaramente, ecco, poi di origine friulana. Oltretutto. Quindi, chiaramente, questi sono aspetti anche importanti dentro i quali poi, come dire, trovare opportunità di presentazioni come quelle legate anche alle mostre fotografiche diventa anche un modo per coniugare esperienze diverse attorno all'immagine fotografica. In questo caso, invece, parliamo del 19 di dicembre, no? Sì. Che è un... È sempre un venerdì. Un venerdì, un venerdì. Sempre alle 19? Sempre alle 18, in questo caso. Alle 18. Verona è più vicina. Eh, Verona è più vicina, giusto. Bolzano alle 19 e Verona alle 18. Diciamo che l'attività promozionale del libro è stata anche abbastanza faticosa dal punto di vista fisico, perché lei si è spostato in diverse parti del paese. Sì, ma sto in movimento così, per una fotografia in movimento, quindi mi pare sia anche un motivo, un elemento per essere in qualche modo... No, mi pare importante la modalità così della presentazione perché si riesce così anche a confrontarsi con autori diversi, anche con professionalità diverse e quindi questo, insomma, stimola anche il dibattito, la discussione e quant'altro, insomma. Una delle presentazioni che ho avuto modo di fare con un editore, la direttrice di una importante rivista che Exibart, appunto, poi definirono, appunto, in sottoscritto il libro, l'anima fotografica del nord-est. Mi pare carino. Sì, piuttosto, insomma, è anche importante come titolo attribuito, insomma, l'anima fotografica del nord-est. Ecco, proprio questo volevo chiederle. Volevamo chiederle, lei ha notato, ha riscontrato, non so, una differenza, anche, diciamo, dal punto di vista, e ci perdono i termini, è della latitudine, nel senso, magari presentandolo più verso il centro Italia, al nord, magari una differenza di, diciamo, di reazione, ma proprio anche di atteggiamento. No, francamente, credo che l'interesse sia stato piuttosto... Omogeneo. E quindi con interessi, con domande, spesso anche diverse, però, che poi, ad esempio, una delle domande spesso ricorrenti è quella sulla dicotomia tra fotografo e artista, no? Che ricorre spesso, per ovvi motivi, però, appunto, poi alla fin fine tutti si concordano in qualche modo che è una dicotomia che non ha molto senso che esista, insomma, ecco, perché ovviamente, se no, si torna una sorta di regressione, quella famosa sulle invettive di Baudelaire del 1859 al Salon de Paris, quando, ovviamente, lui si scagliava, ovviamente, più che altro, c'era un po' il timore di questo affacciarsi di una nuova tecnica, pratica, artistica, quella fotografica che potesse, in qualche modo, forse, portare via, no, spazio o altro alle arti cosiddette, come la pittura, la scultura, eccetera. Le arti nobili. Ecco, però, cioè, voglio dire, è un falso problema, insomma, come poi in tempi più recenti sembrava che la fotografia con l'avvento della videoarte e di altre e delle nuove tecnologie dovesse scompare, cioè, nulla di questo poi alla fin fine si è verificato, perché poi è quello che è il significato, è quella che è la bellezza dell'opera d'arte, resta in ogni caso, insomma, ecco, cioè, per cui la riconoscibilità di un oggetto che si presenta bene, che è bello esteticamente, che ha un suo significato, un contenuto, ha una forma, un'identità, resta nel tempo. Io non credo, infatti, come dire, che l'avvento delle varie tecnologie, cioè, restano le varie arti nel corso del tempo con le loro caratteristiche, fisonomie e quant'altro, insomma, la pittura come la scultura continuiamo ad apprezzarla proprio perché, voglio dire, ha una sua connotazione, una sua identità e perché, ovviamente, nella materia, piuttosto di un tipo che di un altro, si apprezzano le caratteristiche e i significati. E questo mi sembra, come dire, allo stesso modo il significato per cui io credo che ci continuerà ad apprezzare la fotografia, la stessa stregua, magari, della videoarte e così via, insomma, ecco. Sì, considerando che sono due diverse espressioni di... Sì, come, cioè, voglio dire, nessuno poi mai si sognerebbe, no, di, tanto per fare un esempio, ma e il cinema, no? Cioè, voglio dire, che è una fotografia in movimento, tra l'altro, e quindi... Sì, sì, ci veniva in mente proprio l'Anton Corbin che citavamo, che è il fotografo dei divi del rock, della musica, gli U2 e altri personaggi famosi, che si è cimentato anche con la regia cinematografica, insomma. Credo che finché si riesca ad essere, come dire, trasmettitori, portatori di senso e di emozioni, cioè, gli oggetti, appunto, estetici continueranno a vivere per ovvi motivi, cioè, in quanto tendono a creare passionalità nell'individuo, no, e quindi a far vivere dentro di lui, appunto, un'emozione, un senso, una sua capacità anche proiettiva, dentro la quale riconoscersi, insomma. Cioè, del resto diventa anche un motivo, come dire, di alimentazione del resto, no? Cioè, in qualche modo introiettare cose che producono piacere, diventa anche un modo per ricercarle, per apprezzarne, appunto, le bontà e per continuare, in qualche modo, su questa linea. Insomma, ci congediamo... A malincuore, a malincuore, ma restate con noi. Da Rico Musella e dal suo libro, sulla fotografia e oltre, con uno slogan. Vi aspettiamo domani, allora, a Bolzano. A Bolzano. Insomma, domani l'appuntamento è duopo, come si dice, alle 19. Potremmo congedarci con un Lunga vita alla fotografia, allora? Lunga vita alla fotografia, certo, e a coloro che poi riescono a trarre significato da questo. Sulla fotografia e oltre di Enrico Gusella, critico storico delle arti, edito da Alemandi e Ci, nelle migliori librerie e magari anche in quelle più piccoline. Insomma, una grande diffusione. Grazie Enrico Gusella, il nostro primo ospite di questa giornata insieme e tra poco ci prepariamo ad ospitare Graziano Edi Corazza, giornalista musicologo per parlare di 50 anni di musica rock. Ci vediamo fra poco.